Un appello, quello lanciato dai rappresentanti del Movimento Intesa Civica Solidale, all'assessore regionale e alle attività produttive Marco Venturi e al commissario straordinario dell'ASI, Alfonso Cicero, per prorogare i tempi previsti per le imprese di poter usufruire del diritto di prelazione sugli stabilimenti insediati nella zona industriale. L'ASI ha infatti inviato lo scorso 2 luglio una raccomandata alle aziende operanti nella zona industriale di Contrada Calderaro e San Cataldo Scalo. Comunicando ai locatari che in virtù della legge regionale numero 8 del 2012, i rustici industriali che le aziende hanno in locazione sono posti in vendita e che se le aziende locatari vogliono avvalersi del diritto di prelazione dovranno provvedere al pagamento dell'intero importo entro 30 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione e chi non dovesse provvedere così come prescritto dalla legge, si intende rinunciatario del diritto di prelazione e si procederà all'alegnazione dell'immobile secondo le condizioni previste dalla legge. Rimaniamo così perplessi rispetto al fatto che si intima sostanzialmente a degli imprenditori in un periodo di grande crisi il pagamento entro 30 giorni di somme che possono andare a 200.000 e 450.000 euro, cose che chi conosce la situazione locale ma anche quella regionale sa che è difficile reperire dei fondi specie rispetto al fatto che le banche applicano tassi di interesse esosi. Sarebbe stato opportuno nella legge stessa prevedere dei tempi più dilazionati, d'altronde un'iniziativa del genere è stata prevista anche in periodi precedenti e due note aziende dell'ASI hanno soffrito di questo. Sarebbe stato opportuno che l'assessore Venturi che è a conoscenza, essendo anche lui un imprenditore, di queste problematiche avesse posto in essere delle situazioni anche normative che favorissero in questo senso gli imprenditori virtuosi che ci sono e vogliono fare la loro parte, specie per dare a Caltanissetta anche un futuro. Abbiamo anche sentito le difficoltà degli imprenditori locatari degli stabilimenti presenti nella zona industriale di usufruire di questo diritto di prelazione. Praticamente la difficoltà è palese, io penso che nessuna azienda, piccolo o grande che essa sia, possa in 30 giorni reperire delle somme che variano dai 90.000 ai 450.000 euro che dovrebbe avere praticamente nel cassetto per poter completare questa operazione. L'appello che noi facciamo non solo all'assessore Venturi ma a tutte le forze politiche della città e a tutte le persone che vogliono che questa città abbia un proprio sviluppo è quello di darci la possibilità tecnica perché in 30 giorni nessun istituto di credito può elargire un mutuo o un leasing immobiliare. Quindi noi vogliamo che ci venga data la possibilità tecnica di poter reperire le somme necessarie per acquistare i nostri capannoni accedendo a dei mutui normali fatti presso le banche e qui già si parla di 150-180 giorni perché tenete presente che noi siamo in una situazione economica in cui anche le stesse banche sono in sofferenza. Quindi dobbiamo andare a trattare noi i mutui con queste banche. La legge 8 del 2012 che istituisce l'IRSAT prevede intanto ed è un diritto che è stato stabilito per i locatari di poterlo acquistare direttamente e quindi questo è un primo punto che ritengo importante. Il problema che nasce è quello dei 30 giorni che il legislatore ha fissato e che crea delle problematiche di tempo per l'impresa per avere il credito e quindi acquistare le strutture. Questo per quello che mi è dato conoscere l'assessore Venturi lo ha affrontato immediatamente con un emendamento che ha presentato al VDL 900 che è in discussione all'AS e che prevede in un tempo diverso, quindi 120 giorni. Quindi l'iniziativa dell'assessore Venturi è assolutamente concreta ma certamente dovrà essere poi votata, esaminata e votata dall'Assemblea regionale siciliana.